Il progetto della realizzazione di una struttura ricettiva di alto livello improntata al benessere psicofisico della persona a Villa Angerer ad Arco, ex Sanaclero, è un'idea che sta prendendo sempre più forma. Il gruppo di lavoro formato dall'Uminare della Nutrizione, il dottor Luigi Fontana, dall'imprenditore Eleuterio Arcese, dal dottor Paolo Nicoletti della provincia e dal sindaco Alessandro Betta, sta definendo gli aspetti economici e progettuali della riqualificazione dello storico edificio. Si tratta di un'idea che viene però dalla mente dell'Arcense Silvio Malfer, che nel 2011 l'aveva proposta assieme al professor Fontana, all'allora vice sindaco Alessandro Betta. Sentiamo dalla voce di Malfer cosa ne pensa dell'iniziativa. Ha subito un'accelerazione il possibile sviluppo del Sanaclero in ambito sanitario, un'idea che era partita da lei nel 2011, quindi ci sarà soddisfazione? La soddisfazione è molta, non mi sorprende più di tanto. Il fatto è che a questo progetto, a questa destinazione, io avevo dedicato la mia attenzione ancora, proprio qui mi sono preso gli appunti, il 4 gennaio dell'11 è partita questa idea che ho proposto a tre persone in quel giorno, alla presenza del dottor Fontana che ho conosciuto, uno scienziato di fama internazionale, ho conosciuto così attraverso l'amicizia che avevo col dottor Longo che me ho presentato e pertanto immediatamente ho ottenuto la sua disponibilità per incontrarmi esattamente, perché il giorno dopo partiva per Roma, per incontrarmi ancora in serata con il vicepresidente della comunità di Valle, perché il valandro non c'era e l'ho trovato il giorno dopo, con il direttore della Cassa, col presidente della Cassa Rurale di Arco, Enzo Zampicoli e con Alessandro Betta, che era vice sindaco di Arco, perché il sindaco non c'era, l'ho potuto trovarlo giorni dopo e parlargli di questa cosa. E da quel momento è partita un po' tutta questa proposta, questa idea. Mi piace leggere tra le righe che adesso c'è una disponibilità ampia, diciamo anche con l'inserimento di un'imprenditoria privata, che sarà senz'altro utile perché questo progetto possa avere il suo percorso un po' agevolato, perché altrimenti potrebbe trovare delle difficoltà di vario genere. Purtroppo c'erano gli elementi allora, il mio possesso, che tutti non sono a conoscenza, c'erano gli elementi per accelerare al massimo questo progetto perché altrimenti poteva inaridirsi e arenarsi anche cammin facendo, se i soggetti non si attivavano sollecitamente. Ecco, quella è la prima cosa che avevo affermato a Betta e pertanto sono contento che almeno oggi, da quel che leggo sua stampa, abbia ripreso con altri interlocutori questo progetto. Questo che mi rammarica è leggere che il Sanaclero non è acquisibile. Io non lo so, io ho parecchi elementi, forse sono tra i pochi, se non l'unico, che sa esattamente le cose del Sanaclero. Ma ci sono interlocutori che sembrano, possono essere altrettanto validi, se non superiori alla mia persona, che senz'altro porteranno avanti questo soggetto, questo progetto. Voglio raccomandare a questi interlocutori e anche alla stampa di non affermare mai che questo complesso sanitario è per ricchi o è solamente un complesso di lusso. Mai pronunciarsi in questo termine, ma al massimo, che è il massimo proprio, è dire che è un centro d'eccellenza. E pertanto, come sempre, auguro e auspico che la mia gente, come uso chiamare la comunità di Vale intera, possa beneficiare vedere questo mio sogno, partito ancora nel gennaio dell'11, ripeto, diventi realtà. E ripeto le ultime parole che avevo fatto nell'ultima intervista, se, ripeto se, e per la terza volta dico se, si arrivasse a realizzare questa struttura, avrei solamente una richiesta da fare, che la prima pietra possa essere io posarla. Grazie.